Dieci anni fa, gli uomini di un commando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso Hey Tim! Hey Tim! Hey Tim! Hey Tim!